Se il buongiorno si vede dal mattino, il Trentino Volley 30 si vedrà in seconda serata, o meglio, dal secondo set. Così è stato nella seconda giornata di B2, girone C contro Agona Venezia. La giovanissima squadra di Burattini, dopo la preziosa vittoria della prima giornata, era alla ricerca di conferme. Qualcuna è arrivata, come la discreta solidità del muro, ma rigorosamente dopo il secondo parziale. Il primo praticamente non è esistito. La solida ed esperta Venezia, vedendo i giovani padroni di casa spaesati, ha accelerato, chiudendo a 15 la pratica primo. Bravi Morelli e Soci invece a riprendersi in fretta dallo schiaffo subito ed entrare finalmente in partita nel secondo. A farla da padrone l'equilibrio. Trento e Venezia se la giocano punto su punto, palla su palla. Quasi inevitabile sforare oltre il 25. Qualche peccato di gioventù di troppo della Baby Itas fa pendere la bilancia verso Venezia, 31 a 29. Bella è combattuta la gara anche nel terzo, fino a 17 pari e battaglia. Poi ricezione e battuta deficitano in casa Itas e Venezia scappa, chiudendo la partita 25 a 20.